Un grande investimento da 170 milioni di euro per i servizi sociali della città di Bari, con 190 euro pro capite a fronte di una media nazionale di 120. Si tratta del nuovo piano sociale di zona, il PSZ, ovvero la visione strategica, l'offerta dei servizi sociali e socioeducativi per il triennio 2022-2024. È un piano importantissimo perché è il più grosso piano sociale che sia mai stato fatto nella città di Bari, sono oltre 170 milioni, ma anche il piano che descrive il maggior entità di spesa sociale e perciò di impegno in attività sociale del mezzogiorno. Perciò oggi con il piano che presentiamo, Bari è prima nel mezzogiorno come impegno sociale. Ci sono tantissimi nuovi servizi, sono servizi principalmente innovativi, di cui tanti sono anche stati presi come modello di buona prassi in Italia, fra cui ad esempio le esperienze di co-housing, le case di comunità, i condomini sociali, i progetti del dopo di noi, i percorsi di autonomia abitativa e autonomia lavorativa, i progetti di assistenza domiciliare, però sviluppando progetti di affido per adulti o anche ad esempio stazioni porte poste per la povertà più estrema. Nel documento è anche molto importante tutta la realizzazione, abbiamo già impegnato, di tutti i fondi PNRR. Impegnati quindi fondi comunitari, ministeriali, regionali, ma anche in gran parte dal bilancio comunale. Più del 50% dei fondi che impegneremo nei prossimi tre anni sono di tipo comunale, poi ministeriale e poi chiaramente sono altri fondi di tipo regionale, PNRR, proprio di indicare la volontà politica, amministrativa importante che ci ha permesso anche di avere diverse premialità a livello nazionale. Oggi siamo qui a celebrare insieme alla città di Bari quella che è l'istituzione del piano di zona della città, dell'ambito di Bari. In pratica è bello perché si crea una vera e propria rete tra il ministero che in qualche modo detta delle linee, la regione che detta altre linee che sono per noi in qualche modo fondamentali, sono sette gli ambiti di lavoro, diciamo le tematiche che in qualche modo come linee di indirizzo. Di conseguenza poi ogni territorio, in questo caso la città di Bari che è un monoambito, in tutta la Puglia sono 45 gli ambiti, ma le città più grandi sono un monoambito come Bari, decide in pratica a seconda delle urgenze e dei bisogni quale misure consolidare, confermare e quale innovazioni, quale altre progettazioni dare, sempre nell'ambito sociale. Tutto questo si arriva dopo un percorso di partecipazione, forse è l'unico assessorato che obbliga la partecipazione dal basso. Io addirittura ho partecipato ad alcuni piani di zona dove c'erano proprio invitati i cittadini. Questo cosa vuol dire? Che è il territorio che dice quali sono le esigenze, quali sono le urgenze e poi viene tradotto dalla politica, in questo caso dall'assessore bottalico, oppure poi insieme ovviamente con tutto l'ufficio, con tutte le parti interessate, che possono essere poi il terzo settore, le associazioni delle famiglie, gli utenti, i coordinamenti o piuttosto che le cooperative sociali, insomma tutte le parti interessate e tutti i protagonisti del sociale insieme descrivono quelli che sono gli obblighi, i bisogni minimi della cittadinanza. La cosa bella è che in pratica ci sono anche dei principi che noi vogliamo che vengano rispettati in tutta la regione, cioè in maniera omogenea. Alcuni servizi devono essere minimi per tutta la regione, come se fossero i laps. Cioè per noi alcuni servizi sociali devono essere permessi, ottenuti da tutti i cittadini della regione. Quindi ci sono degli obblighi, diciamo così, di servizio che noi diamo, ma parallelamente poi c'è piena libertà da parte dei comuni. E poi sappiamo bene che il Comune di Bari è particolarmente famoso e importante per l'innovazione sociale, per le grandi quantità di servizi o anche molto alternative, innovative. Quindi è sicuramente un motivo di vanto per la città, ma anche un motivo di esempio per gli altri ambiti. Il piano del Comune di Bari è un piano, a mio avviso, straordinario. Sia per l'investimento comunale che si va ad aggiungere a tutte le altre risorse, quelle regionali, quelle del PNRR, sia per la visione complessiva. È un piano che integra i vari interventi anche sotto aspetti che non sono considerati prettamente sociali. Per esempio la qualificazione urbana. Quindi inserisce la presa in carico dei cittadini in un percorso globale che nel contempo rivitalizza anche l'aspetto dei quartieri e quindi mette davvero insieme il sociale, il lavoro, la formazione, la qualificazione urbana. Quindi è davvero un piano che ha una visione complessiva di lunga portata che si fonda chiaramente sull'esperienza che il Comune ha in materia di welfare e che fa un passo in avanti anche sotto tutti questi aspetti.